Donna Conce! Donna Conce, che avete fatto? Insomma, ti vuoi impicciare dei fatti tuoi, sì o no? Eeeh, calmo, calmo! Fatti tuoi, non fatti tuoi, ma perché sono fatti i vostri? Questi sono fatti del rione! Io non posso soffrire che quei due poveri ciovani devono andanderemo sinando per un poco di amore! Io non ho capito che cosa aspettano! Se sono maggiore e ne si vogliono bene, si fa presto, no? Certo che se io fossi nei panni della ragazza, sì, aspetterei la carrozza! È proprio vero che il Padre Eterno manda i confetti a chi non tiene i denti per rosicarseli! Io sono giovane, a me il sangue mi bolle! E se stai tanto preoccupato, pensa a trovarlo per te un marito! È ovvero? E per chi mi avete preso? Io, per regola di norma vostra, gli uomini ce l'ho appresso così, con la lingua da fuori! E li faccio morire spandecato! E dici, sciò, sciò, non vai per me! Se ne viede una concetta! Trovate un marito! Cos'la pazzi! Che gianca! Grazie.